È stato intanto un uomo straordinario nella sua singolarità, nella sua umanità, nella serietà e nella costanza di un impegno politico che non è mai venuto meno, nemmeno nei momenti più difficili. È il sindaco che ha risollevato Milano dagli anni di piombo, che l'ha proiettata nel futuro con grandi intuizioni sui trasporti, sulla mobilità, sull'assistenza agli anziani di cui fu un esempio insuperato e sull'amore per la povera gente. Basti ricordare l'episodio di avere trasformato gli invisibili in protagonisti e spettatori con quella cerimonia di un'altra del risotto in Piazza del Duomo, quelle lunghe tavolate in cui si distribuiva il cibo ai più poveri della città. È stato sindaco della città in un periodo difficile, difficilissimo, sindaco socialista, sindaco di una città che diventava aperta, moderna, capace di trasformarsi. Un grandissimo sindaco, una persona sempre disponibile, sempre con lo sguardo attento verso il futuro. Mi ricordo quando parlava con grande anticipo della città metropolitana, mi ricordo il suo coraggio di chiudere il centro storico in tempi in cui ancora non si parlava così tanto della questione inquinamento. Una grande persona, un grande vuoto lascia una grande tristezza.